In questi giorni ci sono proprio Majorana dei giornalisti di accomodarsi. Avremmo voluto sentire il ministro dell'istruzione Stefania Giannini su una questione scottante, quella esplosa nelle ultime ore, relativa a presunte irregolarità nelle graduatorie dei docenti tecnico-pratici che insegnano all'istituto Majorana di Bari e che non ne avrebbero titolo. Il ministro però trascinata via dal suo staff prima che la domanda fosse terminata. La polemica si è scatenata dopo la denuncia di due insegnanti esclusi da quella graduatoria. La domanda non è stata terminata né tantomeno quindi è stato possibile avere una risposta sulla questione. Un evidente paradosso considerato che il ministro proprio all'istituto Majorana è arrivata per parlare del progetto di buona scuola. L'unione sindacale di base, scuole e pubblico impiego interviene sulla polemica specificando. Le persone insegnavano senza titolo, hanno conseguito il titolo dopo, hanno dichiarato laurea che non sembrava laurea. Ci troviamo di fronte a persone che hanno l'incompatibilità di avere sia la docenza che alcune attività commerciali. Quindi una serie incredibile di situazioni le quali dovevano essere valutate a monte dai dirigenti scolastici che avevano appunto l'obbligo normativo di vigilare su questo e invece il dirigente scolastico anziché controllare e quindi dare effettivamente legalità all'operazione che era in corso addirittura congiuntamente quindi in una stessa lettera non fa altro che chiedere la regolarizzazione. Cioè praticamente consapevole che non erano regolari le graduatorie e i titoli che questi docenti avevano chiede al capo dipartimento di regolarizzare questi titoli. Per ben tre volte le graduatorie sono state annullate ma dopo tutta questa serie di bandi comunque sono state nominate le persone che avevano l'incompatibilità. La denuncia intanto non solo è arrivata in procura e sarà la magistratura a valutare l'apertura di un'inchiesta ma ha fatto arrivare direttamente da Roma. Tre ispettori del MIUR che hanno acquisito materiale cartaceo. Sono sette i docenti coinvolti nella polemica, sette tra gli istituti Majorana di Bari e il Cosmai di Bisceglie. Vittorio Ponzio, uno dei docenti finiti nel ciclone, ha voluto difendersi sostenendo che la presunta irregolarità sarebbe riconducibile o non modifica nel tempo della dicitura delle specificità della scuola. Qualche cosa è cambiato, è cambiata l'intestazione del diploma, non è più il diploma di tecnico della cinematografia e audiovisivo ma bensì solo tecnico delle industrie audiovisive. Ma la sostanza è sempre quella, il diploma è valido perché come sappiamo nel tempo molte cose, molte diciture cambiano o si possono rifare ad altri settori più specifici.